Più stabilità? Basta un sì. La fiducia al governo sarà votata solo dalla Camera. Più voce alle opposizioni. Più efficienza? Basta un sì. Finirà l'eterno ping pong delle leggi fra Camera e Senato. Tempi più veloci e procedure più semplici per approvare nuove leggi. Meno costi? Basta un sì. Un Senato più snello di soli 100 senatori e senza stipendio. I senatori saranno scelti tra i sindaci e i consiglieri regionali. Meno sprechi? Basta un sì. Detto agli stipendi dei consiglieri regionali. Eliminazione dei rimborsi dei gruppi regionali. Abolizione di un organo superfluo, il CNEL. Cancellazione delle province. Più responsabilità? Basta un sì. Separazione chiara delle competenze fra Stato e Regioni. Maggiore autonomia alle Regioni virtuose. Revoca degli amministratori delle Regioni e dei Comuni in dissesto. Più partecipazione? Basta un sì. I referendum abrogativi avranno un cuorum più basso. Le leggi di iniziativa popolare dovranno essere discusse dal Parlamento in tempi certi. I cittadini potranno fare proposte attraverso il referendum. Un sistema più efficiente, con meno costi, che riduce gli sprechi, che rende il nostro Paese più stabile e semplice e dà più potere ai cittadini. Per un'Italia più forte, basta un sì.